Siamo d'accordo che un seno piccolo faccia male all'autostima, ma concorderete con noi che anche un decolleté esagerato non sia proprio un grande spettacolo. Tra le star d'oltreoceano però non ci sono mezze misure per apparire più sexy agli occhi dei fotografi. Peccato che dietro un ritocchino a prima vista di routine si nascondano tante insidie e spesso, molto spesso, i risultati siano tutt'altro che soddisfacenti. Le pentite del bisturi e parliamo solo del decolleté, altrimenti la lista si allungherebbe troppo, sono personaggi noti dello showbiz internazionale, a partire da Victoria Beckham, il cui seno sembra sfidare ogni legge di gravità. Troviamo anche l'attrice Tara Ride, tra le pentite, che in alcune foto ha mostrato una scollatura asimmetrica. O anche la cantante Courtney Love, che diciamolo francamente non era molto in sé quando ha optato per qualche taglia in più. Immancabile infine una citazione per Alicia Duval, talmente fissata con i ritocchini da aver superato quota 100.